E allora rieccoci qui, ben trovati a questo nuovo appuntamento con diritto e rovescio, la nostra rubrica di approfondimento, dopo la lunga pausa imposta dalle mai troppo deprecate, enorme sulla cosiddetta parcondicio, torniamo per l'ultima puntata di questa stagione 2014-2015, un appuntamento che ci servirà per approfondire i temi lasciati sul tappeto dalle amministrative 2015, che si sono concluse soltanto domenica scorsa con i ballottaggi alle comunali. Amministrative 2015 che ci hanno lasciato Michele Emiliano con la carica di nuovo governatore di Puglia, ma anche con la piacevole sorpresa di sette rappresentanti in consiglio regionale per il territorio della provincia di Barletta, Andrea Trani. Per restare a questo territorio anche si votava per le comunali, qui il bilancio è di un sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra, con il centrodestra che ha visto la vittoria di Nicola Giorgino alla carica di sindaco ancora della città di Andria e la vittoria di Amedeo Bottaro alla guida del centrosinistra alla città di Trani. Passiamo subito a presentare i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, cominciando da Francesco Ventola, neoeletto consigliere regionale. Grazie per essere con noi. Al suo fianco Sabino Zinni, anche egli neoeletto consigliere regionale. Grazie e ben trovato. Dall'altra parte facciamo innanzitutto gli auguri ad Amedeo Bottaro, neo sindaco della città di Trani, che proprio in queste ore, quando andremo in onda in realtà sarà già avvenuto, ma proprio in queste ore sta per ricevere la proclamazione al sindaco della città di Trani. Grazie per essere con noi. Cominciamo prima dalle questioni di carattere generale che stanno alleggiando sulle elezioni regionali. Ma voi ritenete davvero possibile che possa essere messo in discussione il risultato dei sette consiglieri della BAT, Francesco Ventola? Ma in Italia tutto è possibile, sinceramente credo proprio di no. Ora, al di là di tutto questo abattaggio che sta emergendo in queste ore e di anche possibili ricorsi, ipotizzabili ricorsi di alcuni ex consiglieri non eletti, ma credo che la parola fine l'abbia detto proprio il Presidente Emiliano. Nell'intervento preciso nel dire c'è stata una legge e proclamiamo ognuno faccia il proprio dovere. Dopodiché se qualcuno riterrà che le cose siano state sbagliate sarà un ente terzo a doverlo giudicare, ma non si può bloccare un'attività già in essere dopo l'espressione di voto dei cittadini. Quindi credo che non ci sarà nessun tipo di problema. Beh, è chiaro che qualcuno quando ha approvato questa legge probabilmente aveva altro in mente. fare una legge elettorale a un mese dalle elezioni, questa legge è stata votata a fine febbraio, dove già il capire e il comprendere che cosa sarebbe successo era difficile già per le addette ai lavori. E poi magari tirare fuori dopo che ci sono state le elezioni, che probabilmente c'è stato uno scompenso perché magari un emendamento è stato approvato o non approvato ad oggi, se non io non ho ancora capito di che cosa si sta parlando, beh, io credo che sia molto strumentale e soprattutto, diciamo, fatto da chi evidentemente pensava di essere già eletto, questo non può che nuocere alla classe politica in generale, ma io credo che non succederà nulla per il momento. Ecco, in sostanza, Francesco Ventola ha colpito il cuore del problema. La sensazione dall'esterno è che qualcuno avesse pensato di fare una legge elettorale per potersi garantire il successo. Non essendoci riuscito, ora si provvede con minacce di ricorsi, con tentativi di rendere incostituzionale la legge elettorale. Siete sereni? Io assolutamente sì. Nel senso che noi in trasmissione durante la campagna elettorale, quindi in tempi non sospetti, io avevo già detto, senza nemmeno essere facile profeta, che questa legge era una legge sciatta, dove non si capisce mai, come spesso accade in Italia, dove finisce la sciatteria e comincia la malafede. Perché evidentemente, come diceva Francesco, una legge di tal fatta, e quindi una legge che, in materia elettorale, ha un alto tasso di tecnicismo, ed è veramente una materia per addetti ai lavori, quindi una materia ultra specialistica, tant'è vero che io, diciamo che qualche dimestichezza con le norme ce l'ho, sono in fortissima difficoltà a capire quell'emendamento, sub-emendamento, e quindi parlavamo già prima, nella campagna elettorale, di una legge fatta tipo vestito di Arlecchino, lo ricordate, no? Quando da piccoli studiavamo, ognuno aveva messo la pezza a colore, per garantirsi la sua rielezione, tenendo conto che comunque 20 già erano fuori per legge. La pagina, diciamo, tutt'altro che bella della parità di genere, la pagina tutt'altro che bella dell'emendamento fatto dal consigliere uscente Franco Pastore per assegnare con quota fissa a ogni provincia la rappresentanza che gli spetta, e che sarebbe cosa buona e giusta, ma fatta a priori e non a posteriori. Tutti questi fattori avevano reso quella legge una legge, diciamo, abbastanza sciatta, se non addirittura una legge riprovevole, ma questo è prima. Una cosa fatta, capo A. Quindi, una volta pubblicato sul bollettino ufficial della Regione Puglia, quella legge è legge della Regione Puglia. Se a questo aggiungiamo il fatto che oltre a essere stata pubblicata, è stata già applicata, cioè ha retto le elezioni. Allora, senza buttarla, diciamo, in cose troppo difficili, ma uno dei principi fondamentali del diritto è che tempus regit actum, cioè la legge è stata fatta per questa campagna elettorale, allora se si vuole emendare tutto possibile, tutto legittimo, tutto giusto, ma lo si fa secondo un procedimento che è riservato alla legge, quindi all'assemblea elettiva che sarà insediata, secondo quella legge, con tutti gli strafalcioni che ha, con tutte le... che poi non so se questo è effettivamente uno strafalcione oppure no, perché non si è capito bene qual è il punto. è l'ultima cosa, volevo dire, però chi l'ha votata quella legge? Doveva... perché non è stato nemmeno un acuto osservatore, perché in tutti questi ultimi anni è successo sempre questa cosa qua in Italia, cioè quella che il filosofo del noce chiamava l'eterogenesi dei fini, cioè fatta una cosa per colpire un bersaglio, si colpisce esattamente il bersaglio opposto, dal porcellum in poi, quindi, diciamo, fatta questa legge per calzarsi, si è stati scalzati. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, diciamo. E speriamo che le abbiamo detti tutti, tutte le citazioni le abbiamo fatte. Ecco, ma indubbiamente, indubbiamente, diciamo che è una delle polemiche che si crea inevitabilmente dopo il voto, quella di cercare di ritrovare un po' un posto al sole dopo averlo perso durante la campagna elettorale, ma adesso bisogna pensare a governare. Questo territorio ha avuto, diciamo, anche un pizzico di fortuna per il fatto che si votava contemporaneamente in due delle tre città con capoluogo di provincia e quindi le percentuali di affluenza alle urne sono state più alte e hanno premiato con i resti proprio questo territorio, che ha per la prima volta una rappresentanza congrua, forte, decisa e anche qualificata, ovviamente escludendo i presenti perché altrimenti sarebbe pura piageria, ma in realtà è davvero molto qualificata la vostra presenza in Consiglio regionale. Per fare che cosa, Francesco Vento? Beh, noi terremo alla corda emiliano nel portare avanti quelle che sono le sue idee di programma. La gente, la maggior parte dei cittadini ha votato quel programma elettorale è giusto, secondo noi è sbagliato dal nostro punto di vista, però viviamo in democrazia fortunatamente e quindi saremo attenti e osservatori per quello che sarà la sua attività. Ciò non di meno, però, è chiaro, poi viene fuori anche l'esperienza di ognuno di noi. Personalmente, io posso parlare di me, faccio parte di un movimento politico che sta nascendo adesso con tutti i nostri problemi, però io sono una persona legatissima a questo territorio, ho avuto la possibilità di amministrarlo direttamente come sindaco, poi come presidente di provincia, quindi non starò lì a fare assolutamente un'opposizione strumentale del punto della virgola, anzi saremo lì magari a presentare proposte di legge, disegni di legge, che poi è quello il ruolo di un consigliere, essere presenti nelle commissioni. Se devo guardare al mio territorio, beh, io credo che Emiliano ha citato in queste ore alcune emergenze, sicuramente condivisibili come quella della Xilella, però prima di parlare e di approfondire temi che riguardano rivendicazioni di sorta più di carattere politico nei confronti del governo centrale, mi riferisco alla TAP e soprattutto all'ILVA, beh, io credo che un tavolo emergenziale vada subito insediato per l'emergenza dei fiuti che abbiamo qui nella BAT e per quanto riguarda il piano sanitario, perché ancora oggi abbiamo dei servizi totalmente non qualificati, abbiamo dei livelli essenziali, assistenziali che non sono garantiti e quindi probabilmente dare un segnale di insediamento così come farà, come ha detto, o di un tavolo di esperti per la Xilella, ma insediare un tavolo permanente per quanto riguarda l'emergenza dei fiuti che vedrà i cittadini di questo territorio in particolar modo per quelli che fanno raccolte differenziate e super il 65%, pagare di più anziché pagare di meno e questo è già questione, già oramai purtroppo allo stato delle cose, credo che questo può essere un segnale di estrema attenzione, di cui io personalmente mi farò carico per quello che mi è possibile proprio nell'evidenziare. Quello che posso altresì garantire è non solo da me la gente non si deve aspettare, forse farò un danno al ruolo di oppositore, ma non dovrà aspettarsi solo ho presentato questa legge e finisce là. No, ho presentato, l'illustro, ci vado a parlare con il consigliere di maggioranza, cerco di trovare consenso. In questo la forza dei sette consiglieri può essere utile, io non mi scandalizzerei se ci fossero o se ci saranno delle proposte di legge che modificano un po' lo stato attuale in generale di tante cose che portino la firma di diversi consiglieri, magari tutti e sette del territorio. Perché no? Per esempio la Camera di Commercio di Taranto ha già riunito tutti i consiglieri neoletti della provincia ionica per dire facciamo sistema per difendere Taranto e il suo territorio. La stessa cosa potrebbe essere fatta nell'abbatto. Ma qui con uno spirito scusami Francesco positivo, io questo voglio affermarlo. Rimindicazioni legitime. Non stare a chiedere la luna nel pozzo. Ora abbiamo la fortuna che abbiamo consiglieri regionali uscenti che non scontano più il noviziato. Abbiamo un consiglieri regionale oramai un veterano del consiglio regionale. Abbiamo l'entusiasmo forse suo, mio e del 5 Stelle ma insieme all'entusiasmo ci sono pure delle professionalità. Quindi sarebbe veramente un grave errore se non fossimo bravi in questa fase a fare in modo che questo territorio ottenga quello che li spetta. Sabino Zini. Io anche qui ne abbiamo parlato spesso in trasmissioni in campagna elettorale. Questo territorio in questi dieci anni che pure diciamo per onestà intellettuale tutti quanti dovrebbero riconoscere assegnato molti passi avanti della nostra regione basti pensare alle politiche giovanile alla fama per larghi versi molto meritata che noi la nostra Puglia ha dappertutto senza arrivare al National Geographic però comunque turisticamente la Puglia è stata rilanciata la nostra provincia è stata un po' la cenerentola di questa situazione. Lo è stato per due motivi naturalmente che fanno sono due facce della stessa medaglia uno il fatto che le altre province più grandi tra virgolette più grandi nel senso che territorialmente più corpose hanno fatto la voce grossa con noi che eravamo un po' piccoli e neri diciamo come Calimero è un po' però anche perché i nostri rappresentanti diciamo non hanno tenuto botta ok ora questa volta noi abbiamo due concomitanze favorevoli uno abbiamo un settimo del consiglio regionale rappresentato alla BAT ok che non è affatto poco quindi forse questa volta diciamo per quella cosa che dicevamo prima siamo dopo essere stati sottodimensionati questa volta siamo ben dimensionati diciamo così dal punto di vista quantitativo non è mai abbastanza dal punto di vista quantitativo lo siamo adesso tocca a noi esserlo anche dal punto di vista qualitativo certamente con senza diciamo accordicchi sottobanco che diano il senso di dell'inciucio scambi di basso livello ma con una diciamo stella polare quello del salvaguardia e della valorizzazione di questo nostro territorio che ha diciamo tutta la mia campagna elettorale si è svolta su questa tanta materia prima ma che molto spesso questa materia prima rimane allo stato tale cioè non diventa prodotto finito noi abbiamo qui il sindaco di una città che io non mi stanco di definire stupenda come Trani per larga parte bellezza allo stato puro ma sprecata quindi io credo che questa cosa qua i sette consiglieri il dialogo con i sindaci non dico al di là ma anzi al di qua degli schieramenti ok perché gli schieramenti cioè ognuno farà la politica che ritiene opportuno fare ma non lo si può fare sulla pelle del territorio questo è poco ma sicuro perché quando si assorge ad essere rappresentanti istituzionali di un territorio si è rappresentanti di tutti non solo di quelli che ti hanno votato ma anzi vorrei dire senza rischiare la retorica di essere anche e soprattutto rappresentanti di quelli che non ti hanno votato un po' per convincerli la prossima volta a votarti ma anche soprattutto per convincerli che si erano sbagliati e che la salvaguardia e il benessere del territorio è importante e io credo che questo lavoro si possa fare e comunque si debba fare cioè si debba provare a farlo perché noi abbiamo la necessità di questo territorio a tante emergenze ma ripeto a fronte di tante emergenze cioè qui nel lato scuro c'è un lato chiaro cioè ci sono tante potenzialità è arrivato il momento con ordine anche con gradualità senza pensare che noi abbiamo la bacchetta magica perché questa è una tentazione che spesso i cittadini hanno e noi facciamo in modo che la coltivino questa tendenza con gradualità ma anche con molta determinazione dobbiamo perseguire questo obiettivo il dottor Zinni il notario Zinni ha fatto un assist eccezionale perché abbiamo come dicevo prima e ne siamo particolarmente lieti il nuovo sindaco della città di Trani che è una città come diceva Sabino Zinni rappresenta la bellezza pura ma anche sembra una bellezza sprecata perché finora non è stata valorizzata adeguatamente lei durante la campagna elettorale ha sempre detto ritorniamo dal mare ma ritorniamo a Trani sicuramente è una bellezza in questo momento un po' effimera nel senso che dovremmo dare un po' di sostanza a questa bellezza è un po' il compito di chi si è candidato di fatto a risollevare un'intera città mi piace però innanzitutto dire una cosa io sono orgoglioso che Trani con il suo credo 68-67% abbia contribuito notevolmente a far sì che la BAT potesse essere rappresentata da sette consiglieri regionali parliamo dell'affluenza al primo turno assolutamente all'affluenza al primo turno che è stata praticamente l'affluenza poi anche per la nomina del consiglio regionale ne sono veramente orgoglioso perché è stata una partita per me e per noi importantissima condivido la disammina fatta dai consiglieri regionali a cui peraltro faccio i miei auguri oltre che i complimenti era il momento che la BAT fosse rappresentata in maniera diversa in consiglio regionale perché è evidente che noi paghiamo già il gap di essere gli ultimi arrivati come provincia ed è chiaro che quando sei l'ultima arrivata sei un po' la cenerentola è evidente che invece una rappresentanza così forte potrà far crescere molto il territorio perché bisogna innanzitutto superare gli steccati della politica e superare gli steccati anche dei campanilismi cittadini io sono contento sono contento che molte città della BAT siano state rappresentate penso ad Andrea Canosa Trani Barletta perché già questo fa crescere un segnale importante che aiuta a far crescere un territorio chiaramente sono altrettanto orgoglioso di aver addirittura il 56% dei consensi sono andati dal centro-sinistra e quindi a Michele Emiliano pensate per Trani è un precedente storico non era mai accaduto anche il primo vendola che aveva avuto un grande successo nella città di Trani non aveva mai raggiunto a Trani un risultato del genere quindi è evidente che è un motivo di soddisfazione che vedete non è personale perché anche questo la politica un po' deve cambiare basta con i personalismi io l'ho detto il primo giorno a me interessa far crescere un territorio se questo può significare mettere da parte mettersi anche un po' da parte e riconoscere merita qualcuno altro che sono il primo a farlo ma tra l'altro in questo modo si esce dall'isolamento nel quale si era ricacciata tranne negli ultimi anni io dico che è stata la mia più grande critica ho messo da parte tutte le questioni giudiziarie che lasciano il tempo che trovano ho messo da parte sotto certi aspetti anche i problemi dal centro-destra che ha portato a una grande spaccatura che poi è stato forse il problema principe del centro-destra ma ho detto che forse la critica più grossa l'ho fatto su questo Trani è rimasta isolata per troppo tempo è rimasta isolata perché si è legata appunto alla ha alzato uno steccato innanzitutto la città di Trani uno steccato che è lo steccato della politica del campanilismo al contrario io la mia prima demolizione che è stata forse quella più importante questa città ha bisogno invece di dialogare ha bisogno sicuramente degli altri ha bisogno di crescere insieme all'intero territorio e questa veramente sarà la mia mission principale perché credo che anche questo di mettersi in rete con gli altri comuni in tanti settori penso al turismo ma anche nelle attività produttive in tutti i settori della vita amministrativa diventerà fondamentale perché servirà a far crescere Trani e far crescere l'intero territorio è riuscito a dormire qualche ora dal 14 poche ore sì diciamo non ancora in maniera sufficiente ma è evidente che c'è anche una gran voglia una gran voglia di insediarmi di cominciare finalmente ad affrontare i problemi una gran voglia che si insedia anche il consiglio regionale perché batteremo i pugni da subito l'emergenza ambientale è sicuramente una grande emergenza che abbiamo nella BAT però una cosa la devo anche dire Trani è stata ha pagato un prezzo altissimo in tutti questi anni è stata una discarica di bacino era giusto esserlo oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza semplicemente una chiusura diciamo non dovuta certamente in questo momento al sottoscritto non cerco responsabili cerco piuttosto soluzioni in questa fase fino a quando io non sarò in grado di garantire la sicurezza di quella discarica e quindi la riapertura ho bisogno che dell'intera BAT oltre che chiaramente la regione non è possibile biostabilizzare i rifiuti a Foggia e portarli a Taranto siamo morti in questo momento perché io già eredito una situazione da un punto di vista economico-finanziario pessima difficilissima il rischio è che lasci i rifiuti in strada Trani ha pagato un duro prezzo in tutti questi anni adesso non deve essere abbandonata c'è bisogno che gli altri comuni della BAT facciano con Trani quello che Trani ha fatto in tutti questi anni con loro seppur soltanto provvisoriamente poi torniamo subito su questi argomenti però credo che il coinvolgimento dei consiglieri regionali non possa essere escluso anzi lei è stato anche presidente della provincia di Barletta Andetrani e ha fatto proprio delle battaglie ambientali il suo cavallo di battaglia cercando di stoppare il progetto di nuove discariche dalle zone di Spinazzola in particolare e di Minervino ma bisogna dire che questo territorio davvero ha pagato tantissimo e Trani non può essere lasciato a sola il problema è che quando si è amministratori dobbiamo avere tutti quanti la capacità non solo di guardare a quello che è oggi ma soprattutto la responsabilità che ci assumiamo per le decisioni che prendiamo nelle anni a venire ora tre anni fa l'unico che si è opposto al presidente Evendola all'epoca per non far conferire i rifiuti della provincia di Bari e del sud barese a Trani è stata la provincia di Baretta Andetrani ma non dal punto di vista politico io ho ricevuto una telefonata ero il 4 e il 5 di luglio alle 11 e mezza di sera nel 2012 si era da poco votato a Trani il presidente Evendola mi dice Francesco siamo in difficoltà non conosco il sindaco di Trani però devo fargli un'ordinanza come possiamo sai io gli dissi presidente di che stiamo parlando 5-6 mesi va bene ma figurati 5-6 mesi abbiamo la capacità ma ci mancherebbe altro ma non esiste ma nemmeno andiamo sui giornali con tutto il rispetto dei media con veri servizi c'è l'accordo io chiamai Riservato mi feci carico di questo disse a Riservato Gigi siamo all'inizio poi tessi anche tu un rapporto con il presidente Evendola e alla prima ordinanza non c'è stato nessun tipo di opposizione perché era solo per i primi 6 mesi a dicembre prima che scadesse la prima ordinanza noi siamo stati gli unici a dire di no da un punto di vista tecnico io mi onoro di aver messo su non per mia scelta forse ero stato pur fortunato un ufficio ambiente in provincia veramente eccellente ma veramente che fa invidio a tutti gli altri territori la scelta mia era stata quella di aver messo un dirigente non ingegnere ma un dirigente che avesse delle informazioni culturale giuridica perché dicevo di tecnici ce ne sono tantissimi ognuno viene a per ora la propria causa poi alla fine i numeri sono quelli a me interessa che il percorso amministrativo non commetta errori perché il privato legittimamente è quello il suo mestiere avrà 10.000 avvocati dietro di sé per cui non ti sbaglia una virgola io in questo non voglio sbagliare di questa scelta noi tecnicamente dimostramo che era impossibile perché già la discarica di Trani non assolveva ad alcuni adempimenti da un punto di vista di tenuta proprio da un punto di vista tecnico non amministrativo tecnico perché già nel passato la provincia di Bari e la regione Pula è venuto è venuto a un'offre in truna assessore all'ambiente nel 2010 in piena campagna elettorale insieme ad Antonicelli ad inaugurare un impianto che non è mai entrato in funzione ora ce la vogliamo pure prendere con l'amministratore locale ma è venuto grazie a un finanziamento la regione ad inaugurare un impianto che non è mai entrato in funzione solo a fine elettorale non lo so tranne che è successo anche per l'ostetici e ginecologico è un altro argomento allora noi dicevamo tecnicamente è impossibile se noi abbiamo già dei problemi perché portarci altri difiuti beh quell'ordinanza è durata per due anni e mezzo due anni e otto mesi per poi vederci gli stessi personaggi che hanno firmato l'ordinanza nei mesi di settembre a ditare l'amministratore locale ah c'è l'ingonamento la colpa è vostra perché non hanno saputo benetere la discarica ma quello lo fanno i magistrati e chi ha sbagliato è giusto che paghi ma il ragionamento politico di un territorio che ha creduto nella raccolta differenziata che ha cominciato a conferire di meno a Trani perché avendo alcuni comuni che facevano raccolta differenziata non portavano più 100 a Trani ma portavano 38 35 36 certo e la stessa cosa è successa ad Andrea ad Andrea c'è un impianto che doveva realizzare ad Alecora da un sacco di tempo gli unici che le hanno diffidati per quella che era la competenza era la provincia dopodiché tutto il resto ha fatto finta che non esistesse nulla poi arriva la leggenda e dice giustamente non posso dare l'ennesimo sovvallo però era assessore guarda poi chiede l'assessore era assessore all'ambiente di Andrea Leonardo Di Pilato io ero sindaco di Canosa e Leonardo sedeva nei tavoli in cui bisognava dividere le quote e il ragionamento fatto era sempre Trani e Andrea di pari misure quando ero presidente della provincia e Leonardo era assessore al comune di Andrea e anche lui sollecitava ordinanze che potessero continuare a smaltire nelle more di fare un altro impianto io ho dovuto emettere due ordinanze da presidente di provincia su indicazione dell'amministrazione dell'epoca giustamente perché dicevamo se noi manteniamo in equilibrio le due discariche una privata c'è data in concessione e l'altra totalmente pubblica nessuno mai si arrabbierà giustamente e se condividiamo tutto il percorso di raccolta differenziata queste discariche che potranno durare N anni dureranno molto di più è mancata la regia sia da un punto di vista economico finanziario perché poi i soldi bisogna metterli per farli in piatto se no vanno sull'altra stazione locale e secondo è mancata poi anche la presa di posizione forse più violenta che avremmo dovuto fare noi e quello sì c'è una responsabilità nostra perché a un certo punto avremmo dovuto metterci con le fasce davanti alle discariche di cui non entrano più rifiuti che non sono del nostro bacino ora certamente qualcuno parla di regie io non ci credo adesso andremo andremo noi direttamente in regione quindi vedremo se ci siano state regie occulte delle comafie di tutte queste cose che molto spesso sentiamo dire anche delle amici grillini però che da due anni a questa parte sia ritornato ordine del giorno grottelline di spinazzola e noi ci battavamo a dire che non serve i grottellini perché ce li abbiamo oggi siamo anche un po' diciamo perdenti da questo punto di vista perché noi dicevamo non ci vuole grottelline perché abbiamo altri e trani e quasi quasi adesso non ci sono più allora ecco perché un tavolo preseduto dal presidente simbolicamente ma che dà la valenza politica di volerlo risolvere poi a più presto con l'assessore i tre o quattro riferimenti del territorio con la provincia che ha ancora una competenza e i comuni strettamente interessati io mi chiedo diceva bene Amedeo tu le hai fatto una domanda prima hai dormito qualche uomo secondo me quando comincerà a fare il sindaco che dormirà dormirà un po' di meno però l'entusiasmo della prima volta è qualcosa di ripetibile guardate andrei avanti solo con l'entusiasmo con la voglia di fare e di risolvere i problemi quella sarà la forza però Sabino Zinni Trani ha lanciato un appello forte non può essere lasciata sola in questo momento di emergenza guarda io sono convinto che questo nostro territorio o ragiona all'unisono e senza essere diciamo falsamente pacificatori con tutti i contrasti di interessi che ci sono e ci saranno tra le popolazioni tra le comunità tra le esigenze che possono essere divergenti o si abitua a ragionare all'unisono che non significa che tutti fanno la stessa musica significa che invece ognuno suona la sua parte di spartito ok oppure per la nostra già per l'Italia la vedo buia per la per la Puglia la vedo più buia ancora per la nostra provincia la vedo buissima allora qui chi è chiamato ad amministrare chiamato a governare si deve far carico di un senso di responsabilità che in questo momento diciamo è tale da far tremare i polsi ma è anche conosce il lato B della questione che è il fatto che quando sei alla disperazione non puoi che risalire ok certo cioè più giudico o si comincia a scavare o si risale più giudico così è difficile andare allora abbiamo possibilità soltanto di risalire e abbiamo le risorse di persone e anche di città per risalire l'importante è ricominciare a parlare un linguaggio di verità ognuno chiaramente una piccola ad Andia si chiama Zannaite dell'Ucchio occhiolino alla sua parte politica la dovrà fare ma piccola perché la cosa importante è capire che se il giocattolo si rompe è finita per tutti certamente quindi in questo ragionamento io credo che noi dobbiamo ognuno per la sua parte e io sono davvero cioè a parte la l'amicizia che mi lega ad Amedeo e alla sua famiglia e al padre ricordiamo che Amedeo Bottaro è figlio di Notario quindi figlio è stato il mio presidente per 15 anni diciamo quindi il mio nel senso del presidente del consiglio notarile quindi abbiamo seduto nello stesso consiglio per 15 anni con il papà di Amedeo quindi a parte questa componente affettiva affettiva e amichevole davvero per me diciamo un'occasione unica e irripetibile per lavorare insieme con una persona splendida come Amedeo con un signore vero signore però è importante al di là delle questioni politiche trovare questa quadratura del cerchio perché se no non andiamo molto lontano da nessuna parte ecco ha fatto riferimento all'emergenza ambientale ma ce n'è anche un'altra che è stata sollevata già da una decina di giorni quasi sotto silenzio ma poi è diventata proprio in queste ore di dominio comune le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti si sono rivolte al prefetto per chiedere di dare di prestare maggiore attenzione con le forze dell'ordine per il controllo del territorio dopo gli ultimi fatti di cronaca ricordiamo l'incendio prima delle giostrine poi di un'attività commerciale turistica e non c'è allarme ma bisogna prestare molta attenzione e in questo ovviamente il sindaco può recitare un ruolo importante sicuramente lo recita già il fatto già per il fatto di essersi insediato diciamo la verità che comunque l'assenza di un sindaco crea un vuoto e i vuoti spesso vengono riempiti diciamo dai personaggi sbagliati quel vuoto è stato riempito infatti non a caso in questi mesi da episodi di criminalità più vari e più diffusa è evidente che quel vuoto adesso lo andremo a riempire noi lo andrò a riempire io con la mia amministrazione con un controllo che chiederò chiaramente sul territorio convocherò subito un tavolo per me sarà fondamentale la città deve sentirsi più sicura deve sentirsi più tranquilla dobbiamo dare certezze al cittadino è evidente che è importante far sentire la presenza di un'amministrazione significa colmare un vuoto per cui automaticamente tanti piccoli problemi perché non voglio neanche gridare all'allarme io credo che siano stati piccoli fenomeni anche di microcriminalità che però sono quelli più percepiti dei cittadini certamente però è chiaro che vanno subito affrontati e vanno certamente arginati è evidente che se non siamo in grado di arginare io insieme alle forze dell'ordine episodio di microcriminalità vuol dire che siamo degli incapaci quindi assolutamente sarà importante intervenire immediatamente per dare un controllo diverso sul territorio evidente che le difficoltà ci sono ma vanno affrontate e nei tempi chiaramente anche abbastanza legittimi per chi si è appena insediato di fatto naturalmente ecco proprio per questo le devo fare le classiche domande che si fanno al neosindaco cioè la prima è quando pensate di mettere a punto la macchina amministrativa nel senso la composizione dell'aggiunta io la composizione dell'aggiunta l'ho detto già in campagna elettorale la diciamo la completerò entro 20 giorni dal diciamo dal mio insediamento ci sto già lavorando chiaramente sto cercando di un'aggiunta che sarà a 6, 7, 8 quanti assessori? diciamo che al momento probabilmente la chiuderò a 8 ma è ancora in fase diciamo di definizione molto dipenderà anche dalle reali esigenze che incontrerò l'ho detto lo primo giorno sarà un'aggiunta un po' ritagliata a misura sulle esigenze che incontrerò al comune di Trani io tendenzialmente ho sempre detto una cosa credo molto che soprattutto dopo la Bassanini l'aggiunta sia un organo politico che dà un atto di mirizzo quindi molto spesso ricorre delle giunte tecniche potrebbe tra virgolette essere inutile perché i tecnici ci sono sono i dirigenti di un comune però questo è un concetto molto teorico poi io devo scontrarmi con la diciamo la dura realtà la realtà che in questo momento il comune di Trani non ha molte figure che invece necessitano non ho le risorse neanche per ricorrere nel breve a delle nuove figure per cui da qui la necessità probabilmente di appunto un'aggiunta mista dunque metà tecnica e metà politica è quello a cui sto lavorando per cercare di capire o tecnici di aria anche non escludo tecnici di aria una cosa è certa è un'aggiunta non lottizzata politicamente l'ho detto chiaramente alla mia coalizione prima ancora addirittura di candidarmi quindi figuriamoci oggi con il consenso che ho avuto io ho bisogno di gente qualificata soprattutto nei settori nevralgici della città soprattutto in quei settori dove in questo momento chiaramente la macchina amministrativa è particolarmente carente avrò bisogno dell'assessore che si rimbocchi le maniche e lavori faccia il lavoro che probabilmente ahimè avrebbe dovuto fare un dirigente un funzionario che in questo momento non ho quindi questo è sicuramente il punto di partenza e questo è il motivo per cui io sto chiedendo un po' di tempo nella formazione della giunta non perché sto litigando con la mia coalizione o perché stiamo cercando con la coalizione di trovare la cosiddetta quadra del cerchio assolutamente no perché ho una coalizione matura che ha capito il momento particolare di questa città ha capito che in questo momento la città ha bisogno di competenze di professionalità ha bisogno quindi che la politica o sia in grado di dare di fornire quelle competenze o professionalità o faccia fare al sindaco ecco venendo invece al consiglio comunale è soddisfatto della qualità dei consiglieri che sono venuti fuori dalla sua elezione sì tendenzialmente c'è stato un grande ricambio generazionale lo è stato nella maggioranza con un'introduzione peraltro anche di molte donne peraltro anche molto qualificate ma devo dire la verità lo è stato in tutta la compagine diciamo consigliare penso anche ai miei competitor che entrano in consiglio comunale che sono tutti quanti diciamo degni che sono tutti hanno tutte delle competenze e quindi sapranno sicuramente fornire il loro apporto perché anche in questo vorrei cambiare un po' la vecchia mentalità che abbiamo avuto a Trani nel rispetto sicuramente dei ruoli di maggioranza e di opposizione ma bisogna cominciare a dialogare anche con l'opposizione bisogna cominciare a costruire nessuno scontro o preconcetto assolutamente assolutamente io sarò aperto anche alle critiche perché ripeto potrò sbagliare posso sbagliare anzi sicuramente sbaglierò lo farò sempre in buona fede per cui chi sbaglia in buona fede è aperto sempre alle critiche peraltro non sono né per maloso né arrogante sono delle qualità tra virgolette che non ho è un riferimento è un riferimento ma vedete peraltro no non è un riferimento ma chi ci ha preceduto non è soltanto io non critico soltanto il capo di un'amministrazione quindi di un sindaco critico anche tutti i consiglieri comunali anche i consiglieri che oggi saranno nuovamente seduti nei banchi peraltro probabilmente della mia maggioranza era un clima tutto sbagliato un clima che deve essere cambiato chiaramente io mi assumo la responsabilità sarò io a dover far cambiare questo clima bisogna collaborare bisogna essere più aperti bisogna rispettare innanzitutto tutti i consiglieri comunali dal primo all'ultimo non esiste un rispetto per la maggioranza e un rispetto diverso per l'opposizione questo è quello che io questo è un punto delicatissimo perché nell'ultima consigliatura uno dei vulnus dell'intera situazione politica era rappresentato dalla figura del presidente del consiglio comunale non tanto per la persona ovviamente ma per le modalità con cui si è raggiunti all'indicazione di quel presidente del consiglio comunale presterete attenzione anche a quello sarà oggetto di una trattativa allargata con le opposizioni o avete già deciso che andrà al più suffragato o al meno suffragato al più biondo al più scuro io devo dire non ho dato una regola su questo non l'ho pretesa mentre ho preteso delle regole che sono ad esempio quelle di costituire una giunta in piena libertà con la presidenza del consiglio ho lasciato una piena libertà al consiglio comunale l'unica regola che ho dato netta e chiara è il tempo io non posso aspettare se non sarà il consiglio comunale a saper nominare il presidente è chiaro che a questo punto l'indicazione la farò io e porro la fiducia su quell'indicazione perché io non posso perdere tempo non posso pensare di portare avanti i lavori del consiglio comunale senza la nomina di un presidente sarebbe un segnale di debolezza che in questo momento il consiglio comunale la città non deve assolutamente dare che situazione economica le ha lasciato il commissario la dottoressa Maria Rita Iaculli nel senso che ovviamente non è che ha creato lei la situazione ma che quadro le ha fatto pessimo disastroso allarmante ha fornito chiarimenti per chiarire i contorni partiamo subito diciamo la verità mi è piaciuto prima il consigliere Zinni bisogna cominciare a raccontare la verità alla gente questo non per non prendersi le responsabilità perché io me ne sto assumendo le responsabilità però è giusto che sappiamo innanzitutto la situazione attuale qual è hanno fornito dichiarimenti alla corte dei conti li ha forniti il commissario prefettizio per tramite chiaramente le strutture tecniche del comune la corte dei conti ha ritenuto questi chiarimenti assolutamente insufficienti ha dato pochissimi giorni per fornire ulteriori chiarimenti ci ha convocato per il 2 luglio davanti chiaramente in audizione pubblica è evidente che quindi ci aspettiamo un ulteriore blocco assolutamente delle risorse delle risorse del comune appena insediato inizierò un dialogo innanzitutto con la magistratura della corte dei conti farò comprendere della corte dei conti che ho intenzione innanzitutto di procedere con una due dirigenza sui conti del comune l'operazione verità l'ho definita in campagna elettorale è quella che mi appresto a fare ho bisogno di un po' di tempo chiederò un po' di tempo in questo alla magistratura contabile il segnale che darò forte e di una diversa di un diverso atteggiamento molto più collaborativo cercherò di far comprendere alla corte dei conti che non intendiamo nascondere nulla intendiamo al contrario fare un'operazione verità quindi capire realmente evidente che il problema diciamo sono i residui attivi perché mentre i residui passivi sono quelli purtroppo non sono falsi sono tutti reali i residui attivi invece vanno riaccertati vanno riaccertati probabilmente il grande problema sarà quello lo dobbiamo affrontare non dobbiamo aver paura di affrontarlo non dobbiamo fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia perché altrimenti per la città di Trani significherà la fine li affronteremo chiederemo sotto questo aspetto un po' più di tempo è chiaro che dovremo attraversare dei momenti difficili ma anche in questo mi appellerò ai cittadini farò comprendere alla città che si tratta di un momento un momento che supereremo tutti insieme io ritengo che con una diversa comunicazione cioè aprendo le porte realmente finalmente abbattendo quel muro che si è sempre creato tra l'amministrazione e il cittadino il cittadino potrà maggiormente comprendere i sacrifici a cui lui stesso verrà chiamato queste sono considerazioni importanti che in genere vengono fatte prima dell'insediamento sono contento particolarmente che lei li faccia dopo l'insediamento nel senso che adesso sarà compito suo davvero non potrà dire più è colpa di qualcun altro sarà lei a dover rendere quel muro un vetro trasparente e quindi di questo devono essere contenti ovviamente tutti i cittadini tranesi io mi onoro di essere un cittadino tranesi per cui lei è il mio sindaco e questo è sicuramente sono onorato di esserlo è un segnale importante per la città siamo arrivati quasi in chiusura del nostro spazio vorrei un ultimo intervento da parte di tutti i nostri ospiti per segnare qual è il proprio obiettivo personale ovviamente politico naturalmente parliamo di questo all'interno delle istituzioni dove andrete a rappresentare questo territorio cioè Francesco Ventola consigliere regionale sarà tra cinque anni soddisfatto di aver svolto questo ruolo se avrà portato a casa quale risultato proprio per essere pratici quello della sanità io vorrei vivere in un territorio che se sto male mi salvo la vita se sto male so qual è il percorso che devo fare stando nella mia realtà per salvarmi la vita se riuscissimo in questi anni a creare queste condizioni saremmo già personalmente sarei molto ma molto soddisfatto poi è chiaro potremmo parlare di lavoro di ambiente ma per essere concreti anche noi ci ricordiamo che c'è la questione della chiusura degli ospedali di Canosa di Trani di Minervino di Spinazzola non sostituiti adeguatamente dai servizi territoriali esattamente così mentre abbiamo delle strutture per fortuna di patrimonio pubblico penso all'ospedale di Trani all'ospedale di Canosa ma anche di Minervino e di Spinazzola che se adeguatamente riorganizzati possono benissimo assolvere all'onere in questo caso per quanto ci riguarda un bel onore di poter avere la medicina territoriale sul territorio e anche interventi che possono essere interventi chirurgici che possono essere fatti in the hospital o anche visto che esistono ancora in maniera efficienti le sale operatoria a Trani e la sale operatoria a Canosa perché non fare lì il programmato così da alleggerire le due grandi città dall'emergenza e dall'urgenza io credo che se in questi cinque anni dovessimo riuscire a realizzare l'ospedale ad Andere e a far decollare ma questo in tempi brevi nei prossimi sei otto mesi la medicina territoriale ne lo so come già esistenti quindi senza dover fare altri investimenti o ricorre necessariamente al privato beh questa sarebbe una gran bella soddisfazione se non altro è la competenza più importante che è la regione Poli Sabino Zia il tema del diritto alla salute quindi allargato anche alle tematiche della salubrità dell'ambiente la cosa è sicuramente il tema dei temi basti pensare al fatto che il bilancio regionale per l'80% se non va derrato più o meno si mantiene su queste cose qua quindi è evidente anche però che io diciamo mi sento come una pulce in un sacco di farina a parlare di questo argomento quindi diciamo per quello che sono i miei le mie idee di fondo ne cito una di metodo e una di merito quella di metodo è non andiamo da nessuna parte se quel processo di responsabilizzazione di cui parlavo non si traduce in atti legislativi e amministrativi che siano coerenti con gli obiettivi cioè che cosa voglio dire la legge regionale elettorale malfatta distorta eccetera il procedimento legislativo che confesso che uno dei motivi che mi ha intrigato di più da uomo di legge di partecipare a un'assemblea è quello di partecipare a un'assemblea che ha potere legislativo cioè di passare dall'altra parte della barricata e vedere come non si interpretano le norme ma come si creano perché molto spesso è facile fare il maestro quando devi spaccare il capello in quattro specialmente i nostri bizantinismi hanno vecchia scuola ma quando la devi fare la legge con quei caratteri che dicevo di generalità di astrattezza quindi non provvedimenti ad personam non provvedimenti tagliati su misura è una cosa che mi intriga molto quindi vorrei essere molto attento a queste indicazioni di metodo cioè vorrei dare il mio contributo politico ma con una certa conoscenza tecnica al miglioramento cercare di capire soprattutto che conseguenze le leggi possono avere le leggi ma anche i regolamenti i provvedimenti amministrativi cioè la parte burocratica la parte che è ingrata dell'amministrazione cioè che nessuno guarda perché pensano tutti che sia una parte che non serve ma invece serve perché è come il motore nella macchina cioè tu puoi avere una bellissima carrozzeria ma se il motore non ti funziona cioè sei fermo al palo e questa è l'indicazione di metodo l'indicazione di merito invece è una cosa che mi sta a cuore tantissimo e che in campagna elettorale ho battuto in lungo e in largo è il tema possibile del ritorno dei nostri giovani qui c'ho un nodo alla gola perché quando questo accade perché i giovani sono costretti ad andare via è un deparamento netto del nostro territorio allora che loro vadano si arricchiscono di conoscenze di esperienze ma poi tornino è un arricchimento e se non possono tornare materialmente perché non abbiamo le possibilità concretamente il mago merlino diciamo salvano la favola di vertu lo dobbiamo fare con i mezzi che ci sono dati cioè le loro idee le loro esperienze le loro capacità devono servire alla terra da cui sono partiti questa cosa qua per me è una cosa fattibile cioè è una cosa che si può fare anche senza il dispendio di grandi mezzi ed è una cosa che servirebbe tanto a tutta la Puglia ma in particolare al nostro territorio perché io non so Francesco non so Ammedeo ma io in campagna elettorale ho incontrato delle risorse bellissime di ragazzi che stanno lì stanno lì ed è uno spreco di energie che non è più non è più possibile consentire quindi sempre per tornare al mio amato dialetto mi mangerò il cervello come si dice ad Andia per trovare una qualcosa che diciamo non da solo insieme con con tutte le persone di buona volontà per venire incontro a questo obiettivo e l'emozione che ha mostrato le fa onore e ci dà poi il senso che quando si fanno le cose con passione con determinazione poi alla fine i risultati non possono che venire per cui siamo particolarmente felici della sua emozione in questa circostanza invece il sindaco di Trani potrà essere soddisfatto tra cinque anni se avrà fatto cosa avrò fatto avrò cambiato il verso è una città in caduta libera che invece deve cominciare a crescere a ritornare a ritornare su il processo sarà lento miracoli non ne fa nessuno è evidente questo non ho la bacchetta magica però sono convinto e sono anche molto ottimista in questo la città saprà riprendersi perché finalmente è amministrata in maniera diversa in maniera anche più concreta affrontando i problemi piuttosto che cambiando ogni volta a strada facendo delle scelte soprattutto che fino ad oggi non sono mai state fatte sicuramente l'obiettivo è far vivere forse per la prima volta Trani realmente di turismo è sprecata è assolutamente sprecata oggi sono convinto ad esempio in questo che sarà importante creare una rete anche con le altre città io dico sempre penso al turista che viene a Trani fotografa la cattedrale e va via beh dovrò innanzitutto lavorare finché oltre a fotografare la cattedrale possa girare tutta la città innanzitutto visitando tutto il patrimonio artistico monumentale di cui Trani è ricca ma poi pensando anche al turista per portarlo a Barletta per portarlo ad Andrea penso al Castel del Monte per portarlo a Canosa che ha una ricchezza dal punto di vista archeologico che non è uguale alla zona vedete tutto questo non è mai stato fatto non è mai stato neanche pensato è chiaro che ci lamentiamo del turista a mordi e fuggi ma se noi al turista a mordi e fuggi non abbiamo mai offerto niente che non sia la semplice apertura di una cattedrale è evidente che sarà sempre così bisogna ragionare in maniera diversa in maniera quindi pensando a un turismo più strutturato ma soprattutto aprendosi quindi cercando di mettersi in rete con tutti i comuni limitrofi con tutte le risorse che sono presenti in tutto il territorio non solo la città di Trani basterebbe anche un piccolo coordinamento per evitare che nella stessa serata si facciano in 10 città 10 eventi importanti e magari il giorno dopo non c'è niente da nessuna parte guardate non mi sono ancora insediato sto già parlando con gli altri sindaci per i dialoghi di Trani una delle cose più belle è che in un momento storico come questo dove io non ho le risorse per finanziare i dialoghi di Trani che è un evento fondamentale per la nostra città la cosa più bella è pensare a un contributo di tutti gli altri città esportando un dialogo nelle altre città ecco vedete questo è il modo diverso di amministrare anche una città in questo modo io sarò contento di portare un dialogo in un'altra città perché avrò raggiunto due grandissimi risultati il primo garantire comunque una manifestazione che in questo momento non ho risorse per garantire e il secondo avere anche portato qualcosa in un'altra città limitro la blocco subito perché lei è stato amministratore oltre che della provincia anche da sindaco della città di Canosa per dieci anni lei sosterrebbe un'iniziativa di questo tipo? c'è stato un anno in cui viveva ancora a Ciccio Salerno pensavo ad un cartellone unico le tre manifestazioni più importanti erano riconosciute da tutti la disfida di Barletta Castel dei Mondi e i dialoghi di Trani è stato fatto anche uno studio su quello e anche per trovare le risorse economiche la regione Puglia all'epoca l'assessore era sempre la Godelli il primo mandato vendola ci chiese proprio questo studio poi però è stato comunque finanziato per parti perché la regione ha sempre sostenuto questi tipi di interventi secondo me è un'ottima idea perché la difficoltà che si ha delle altre città è che anche le altre città non vivono in condizioni e ci sono sia le richieste legittime delle associazioni locali sia di manifestazioni che ti arrivano quando però si condivide in fase di partenza un principio queste tre o quattro cose le facciamo e ci mettiamo ognuno del suo sapendolo tutti quanti gli altri questa idea di poter esportare un dialogo a fronte di una contribuzione secondo me è una cosa che può trovare mi sa che questa è una settimana fortunata per lei prima il voto dei trenesi adesso l'adesione da parte dei rappresentanti del territorio bisogna sfruttare questo momento stiamo cambiando l'aria quindi guarda ti posso ti posso ha espresso un sentimento Sabino prima lo dico ma io credo che sia un sentimento diffuso da tutti è riconosciuta Trani la città di riferimento in bellezza è un qualcosa dove uno si sta incazzato scusami il termine basta che va lì in qualsiasi momento dell'anno da qualsiasi parte io dico io dico una cosa se loro mi aiutano in un momento difficile per la città perché siamo in un momento difficile mi aiutano a far crescere il territorio non solo già lo sono i benvenuti a Trani lo saranno ancora di più ma io li vado a prendere io da casa li porto a Trani li porto a cena li faccio girare Trani saranno miei ospiti anche perché vedete in questo momento io sono pronto a tutto sono pronto a ogni sacrificio lo sto facendo sono già grandi sacrifici che sto già affrontando per la mia città sono pronto a fare qualsiasi cosa per la mia città in un momento difficile ho bisogno di tutti e non poteva esserci migliore conclusione per questa edizione di diritto rovescio che è l'invito a cena del sindaco di Trani no scherziamo no no io no questa grazie ma questa conclusione non poteva esserci davvero non poteva essercene una migliore perché è il senso e lo scopo proprio di questa nostra trasmissione quella di mettere a confronto il diritto e il rovescio cioè mettere a confronto le due facce della stessa medaglia potendo parlare apertamente senza filtri e soprattutto serenamente senza cacciara in maniera tale che tutti a casa poi si facciano un'idea compiuta di quello che è l'argomento di cui si è dibattuto io ringrazio davvero di cuore Francesco Ventola per essere stato con noi in questa trasmissione ringrazio sempre Sabino Zini anche egli consigliere regionale della Puglia per i prossimi cinque anni ringrazio anche il neosindaco di Trania Medeo Bottaro grazie per essere stati con noi l'appuntamento per tutti è ancora fra qualche mese ci ritroveremo a settembre per la quindicesima edizione sarà il quindicesimo anno quello che si è appena concluso è stato un anno particolarmente lungo intenso anche emozionante per chi ha condotto questa trasmissione ricordiamo che abbiamo superato più o meno intorno al mese di settembre le 500 puntate oltre 2000 persone che si sono alternate in questi 14 anni finiti della nostra trasmissione nei nostri studi per portare nelle case di ciascuno di voi il nostro territorio questa è la più grande soddisfazione che potevamo regalarci ringrazio ovviamente la direzione responsabile di padre Francesco Mazzotta che ha consentito ancora la messa in onda di questa trasmissione ringrazio tutti gli operatori di ripresa che si sono alternati nel corso di questa lunga stagione ringrazio soprattutto Barbara Lomuscio la nostra regista che ha garantito per la messa in onda di questa trasmissione grazie a tutti l'appuntamento è ancora a settembre sempre con diritto e rovescio buonasera grazie a tutti grazie a tutti